La passeggiata dell'Isippo, uno dei luoghi simbolo di Fano che però da tempo riversa in condizioni di degrado. Sterpaglia ed erba incolta ai lati della passerella, che viene stritolata dalle reti degli stabilimenti balneari da un lato e dalla siepe del laboratorio di biologia dall'altro, come ci dicono le segnalazioni. La passeggiata dell'Isippo, questo è l'ingresso di questa famosa passeggiata. Se andiamo sul lato delle erbacce e delle reti fatiscenti che ci sono, rappezzata la meno peggio, questa è la situazione, la condizione di una passeggiata turistica. Dovrebbe essere turistica, ma di turismo qui non c'è nient'altro che degrado, veramente brutto. Si stringe sempre di più, vediamo che si stringe sempre di più perché le reti dei campi dello stabilimento balneare sono proprio a ridosso, proprio veramente tutte messe malissimo, a ridosso della passeggiata, adiacenti alla passeggiata. Ma il problema non riguarda solamente l'ingresso. Se si procede per la passeggiata, infatti, ciò che si nota sono ringhiere arrugginite e consumate dalla salsedine, alcune parti di cemento a terra sgretolate ed in alcuni tratti con tubi che fuoriescono. Abbiamo sentito il parere dei fanesi a riguardo. Il discorso lì della seduta è una roba studiata molto male, perché una persona si mette a seduta lì, deve ammirare il mare, penso, e si trova proprio di fronte agli occhi la traversina della costruzione. Quindi è una cosa studiata molto male. Molti vengono con la bicicletta, cosa che sarebbe da non fare. Aspettiamo che finiscono le scogliere, un po' dopo dovrebbero dargli una sistemata anche qua, perché adesso col mare, purtroppo, qui quanto c'è il mare da Levante, porta via tutto. Sì, penso a livello di manutenzione, sì, a livello anche sulle panche, su queste zone qua, sì, pitturare un pochino, sì. Venite spesso a passeggiare qua? Sì, sì. Vi piace? Sì, certo, rilassante, queste belle giornate, sì. Però magari tenuta un po' meglio, farebbe ancora più piacere? Sì, sì, anche l'illuminazione, sì. Abbiamo contattato il vice sindaco ed assessore al demanio marittimo Cristian Fanesi, che fa sapere che la zona del porto e quindi anche la passeggiata dell'Isippo è stata inserita all'interno dell'operazione Waterfront, un concorso di idee per il quale il comune circa un anno fa ha stanziato 100.000 euro con l'obiettivo di riprogettare e riqualificare alcuni tratti del lungomare fanese. L'uscita del bando del concorso, programmata marzo, avverrà a breve, ma a causa Covid, continua Fanesi, è stata rimandata a data da destinarsi.